Un frate, la cocaina e le prostitute, la notizia è fresca 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 ed io questa notizia fresca 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 ve la metto come link di assunto di questo video, vedete chi sono? Io sono sempre questo signore qua, mi chiamo Serafino Massoni, ho circa 82 anni, opero sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion e Youtube e su Youtube ho circa 11 milioni di visualizzazioni. Un giro di cocaina e di prostitute a Bologna, dentro questo giro c'era pure un frate, allora mi sorprende che ci sia un frate, non mi sarei sorpreso che ci fosse un prete, del frate sì, perché i frati hanno degli obblighi, i preti no, i frati sì, perché i frati non vivono dentro il secolo, i frati stanno dentro i monasteri, per cui sono meno soggetti alle tentazioni della carne, i frati hanno l'obbligo di castità, di povertà e di obbedienza, i preti no, i preti no perché vivono dentro il secolo, dentro il secolo, un parroco non sta dentro il monastero, il parroco sta dentro la parrocchia, sta a contatto con i parrocchiani e con le parrocchiane, capito? Quindi è più soggetto alle tentazioni della carne, il prete normale, per cui non ha certi obblighi il prete normale, il frate sì, tanti in Italia non sanno che non è la stessa cosa essere un prete ed essere un frate, per cui le cose ve le spiega Serafino Massoni, che è questo signore qua, quindi ricapitolando, a Bologna è stato scoperto un giro di prostitute di cocaina, e dentro questo giro di prostitute, con tutti i clienti ovviamente, c'era pure un frate, la cosa sorprende perché il frate, diversamente dal prete, ha degli obblighi particolari, uno degli obblighi è l'obbligo di castità, cioè non può fare le cose che può fare un prete, perché il prete non ce l'ha l'obbligo di castità, Sì, se è casto è meglio, ma non ce l'ha l'obbligo di castità al prete, capito? E il frate sì, per cui, beh, non è stato fatto il nome di questo frate, però la notizia, c'è la notizia, è una notizia, una notizia diramata dal resto del Carlino, il resto del Carlino, e io questa notizia ve la metto, come l'ignor riassunto di questo video, ragione per la quale, se qualcuno di voi vuol dedicarsi a Dio, deve stare attento a scegliere tra frate e prete, meglio che scelga di fare il prete, perché il prete non gli ha certi obblighi, perché il prete vive dentro il secolo, dentro il secolo, per cui è sottoposto alle tentazioni della carne, per cui non ha l'obbligo di castità, non c'è l'obbligo, se è casto è meglio, ma non ce l'ha l'obbligo, e invece il frate, il frate sì, perché il frate non vive dentro il secolo, vive nei monasteri, e nei monasteri ci sono meno tentazioni della carne, capito? Bene, cari amici, qua mi fermo, io ho commentato la notizia, voi fate liberamente i vostri commenti, e caso mai qualcosa non vi fosse chiara, non vi resta che andare in libreria a comprare una copia di quest'opera storico-mitologica, che spiega tutte le situazioni di questo mondo. Ok, cari amici, a tutti, tanti cari saluti dalla Stilpe del Serpente.